Il mondo della televisione ha accolto una nuova serie poliziesca con la premiere di Simon Coleman il 12 settembre 2023. La serie è stata un successo immediato, affascinando il pubblico con le sue trame intriganti e i personaggi avvincenti. Ambientata nella pittoresca Aix-en-Provence, in Francia, la serie segue la vita di Simon Coleman, un detective esperto con un talento speciale per risolvere casi complessi. Simon Coleman, offre una nuova prospettiva sul genere poliziesco, mescolando elementi procedurali a un tocco di dramma familiare. La serie approfondisce le complessità della vita personale e professionale di Simon, mostrando le sfide che deve affrontare come detective e neo-tutore. Il successo dello show è attribuibile alla sua narrazione avvincente, ai personaggi riconoscibili e alla straordinaria interpretazione dell'attore protagonista Jean-Michel Tinivelli, che infonde vita al complesso personaggio di Simon Coleman. Simon Coleman è un uomo diviso tra due mondi. È un detective di grande talento, noto per il suo lavoro sotto copertura. Anni di esperienza hanno affinato i suoi istinti, rendendolo una forza formidabile di fronte al crimine. Tuttavia, la vita di Simon prende una pievata inaspettata quando diventa il tutore legale dei suoi tre nipoti rimasti orfani, Lucas, 16 anni, Theo, 12 anni, e Jules, 6 anni. Questa improvvisa responsabilità lo costringe a confrontarsi con un lato di sé che non aveva mai conosciuto, un istinto paterno, sepolto sotto anni di lavoro, sotto copertura. Il passaggio da detective incallito a riduttante tutore non è facile per Simon. Si confronta con il peso emotivo della perdita dei suoi nipoti mentre naviga nelle acque sconosciute della genitorialità. La serie ritrae magnificamente questo delicato equilibrio, mostrando la vulnerabilità e la forza di Simon, mentre impara a destreggiarsi tra la sua carriera impegnativa e il suo nuovo ruolo di figura paterna. Lasciandosi alle spalle le frenetiche strade di Parigi, Simon trasferisce la sua famiglia nella tranquilla città di Aix-en-Provence. Questo cambio di scenario è tanto per i suoi nipoti quanto per lui. Spera che i ritmi più lenti e la comunità affiatata offrano un senso di normalità e di guarigione ai suoi nipoti in lutto. Aix-en-Provence, con le sue affascinanti strade acciottolate, i mercati vivaci e la calda atmosfera mediterranea, diventa un personaggio a sé stante. La facciata serena della città, tuttavia, nasconde un ventre più oscuro. Sotto la superficie di caffè pittoreschi e mercati animati, si cela una rete di segreti, rivalità e tensioni latenti. Simon scopre presto che anche in una città tranquilla come Aix-en-Provence, il crimine trova il modo di emergere. Assumere la tutela dei suoi nipoti non è solo un cambio di indirizzo e di stile di vita, ma un vero e proprio sconvolgimento del mondo di Simon. Si ritrova catapultato nel territorio sconosciuto delle corse a scuola, delle riunioni genitori-insegnanti e dei litigi tra fratelli. Il peso della responsabilità grava su Simon. È determinato a fornire una casa stabile e amorevole ai suoi nipoti, ma si rende presto conto che la genitorialità non è un'abilità che si acquisisce dall'oggi al domani. Fa fatica a entrare in contatto con i suoi nipoti, ognuno dei quali affronta il proprio dolore e si adatta alla nuova realtà. La serie ritrae in modo realistico le sfide delle famiglie allargate, la complessità del lutto e il potere duraturo dell'amore di fronte alle avversità. Sezione 5. Destreggiarsi tra i panni del genitore. Le sfide della tutela. Ognuno dei nipoti di Simon presenta una serie unica di sfide. Lucas, il maggiore, è ribelle e arrabbiato, fatica ad accettare la morte dei suoi genitori e incolpa Simon di non essere stato presente. Theo, il figlio di mezzo, si è rinchiuso in se stesso, trovando conforto nei libri ed evitando qualsiasi discorso sulle sue emozioni. Jules, il più piccolo, è troppo giovane per comprendere appieno la definitività della scomparsa dei suoi genitori, ma le sue domande innocenti e la sua nostalgia per la madre feriscono Simon nel profondo. Mentre Simon si destreggia tra le acque agitate della tutela, impara a bilanciare la disciplina con la comprensione, offrendo un orecchio attento e stabilendo dei limiti. Sezione 6. Uno sguardo al passato di Simon. Le ombre del lavoro sotto copertura. Mentre Simon è profondamente dedito alla sua nuova vita ad Aix-en-Provence, il suo passato di detective sotto copertura getta una lunga ombra. Gli anni trascorsi a infiltrarsi in organizzazioni criminali hanno lasciato il segno, plasmando la sua visione del mondo e influenzando il suo approccio alla vita. La serie allude al prezzo psicologico del suo precedente lavoro, ai confini labili tra giusto e sbagliato, e ai segreti che si porta dentro. I flashback dei suoi giorni sotto copertura rivelano un lato diverso di Simon, un uomo capace di mimetizzarsi perfettamente nella malavita, un maestro del travestimento e dell'inganno. Questi scorci sul suo passato aggiungono un ulteriore livello di complessità al suo personaggio, sollevando interrogativi sulle sue azioni passate e sui segreti che potrebbe nascondere. Sezione 7. I personaggi secondari, amici e nemici, ad Aix-en-Provence. Simon Coleman vanta un ricco arazzo di personaggi secondari, ognuno dei quali aggiunge il proprio sapore unico alla narrazione. C'è Sophie, la calda e compassionevole proprietaria del panificio locale, che diventa una cara amica e confidente di Simon. Il capitano Lea Delmas, il nuovo capo di Simon al commissariato di polizia di Aix-en-Provence, è una detective acuta e ambiziosa, inizialmente scettica sui metodi non convenzionali di Simon, ma che alla fine impara a rispettare le sue capacità. E poi c'è Eric, il cognato di Simon e padre dei suoi nipoti, la cui improvvisa ricomparsa sconvolge il mondo di Simon. Sezione 8. L'attore. Jean-Michel Tinivelli è Simon Coleman. A dare vita al personaggio di Simon Coleman è il famoso attore francese Jean-Michel Tinivelli. Noto per la sua versatilità e la sua accattivante presenza scenica, Tinivelli offre un'interpretazione sfumata e potente. Ritrae con naturalezza la forza e la vulnerabilità di Simon, il suo aspetto burbero che nasconde un cuore compassionevole. L'interpretazione di Tinivelli aggiunge profondità e umanità al personaggio, rendendo Simon Coleman un protagonista riconoscibile e coinvolgente. La sua capacità di trasmettere una vasta gamma di emozioni con delicatezza e autenticità è la prova del suo talento attoriale. Sezione 9. Un mix di generi. Crimine, dramma e cuore. Simon Coleman fonde perfettamente elementi di poliziesco, dramma familiare e persino un pizzico di romanticismo. La serie tiene gli spettatori con il fiato sospeso, grazie alle sue intriganti indagini poliziesche, esplorando al contempo la complessità delle dinamiche familiari e le sfide delle seconde possibilità. La serie approfondisce il percorso emotivo dei suoi personaggi, esplorando temi come il lutto, la perdita, la redenzione e il potere duraturo della famiglia. Questo mix di generi crea un'esperienza di visione ricca e appagante, che si rivolge a un pubblico vasto. Sezione 10. Consensi della critica e successo di pubblico. Il successo di Simon Coleman. Fin dalla sua premiere, Simon Coleman ha riscosso il plauso della critica per le sue trame avvincenti, i personaggi ben sviluppati e le interpretazioni stellari del suo cast. I critici hanno elogiato la capacità della serie di bilanciare intense indagini poliziesche con momenti toccanti di unione familiare. Anche il pubblico ha apprezzato la serie, attratto dai suoi personaggi riconoscibili e dall'ambientazione suggestiva di Aix-en-Provence. Il successo della serie risiede nella sua capacità di attrarre un pubblico eterogeneo, offrendo qualcosa per tutti, indagini poliziesche ricche di suspense, momenti familiari commoventi e un pizzico di romanticismo. Sezione 11. Perché guardarla? Un invito irrinunciabile. Simon Coleman è molto più di un semplice poliziesco. È una serie incentrata sui personaggi che esplora la complessità della famiglia, le sfide delle seconde possibilità e il potere duraturo della speranza. Se siete alla ricerca di una serie che vi tenga incollati allo schermo, coinvolgente ed emotivamente appagante, allora Simon Coleman è quello che fa per voi. Con le sue trame avvincenti, i personaggi riconoscibili e la splendida cornice di Aix-en-Provence, Simon Coleman offre un'esperienza di visione accattivante e indimenticabile.